Grazie Siamo ancora qui in Disney Arena Quindi state comodi Stay tuned perché abbiamo altri spettacoli Altra musica, tantissimo da ballare Tantissimo da fare Vi ricordo l'hashtag Tattoo Convention Tutti qui Allora, bellissima data ieri Unica data italiana Raccontaci un po' Sì, è stata una grande emozione ieri Io sono di ritorno dal Giappone Già da qualche mese E' stato bello tornare in Italia E farlo in un'occasione tanto Carina e a me vicina Perché insomma Casa Casa mia, mondo di tatuaggi Rock, tutto perfetto Quindi sono molto soddisfatto Di com'è andata, di com'è risposto il pubblico E di tutta questa convention Che è una gran figata Sono d'accordo Parliamo invece dei progetti futuri Le tue date I tuoi dischi in uscita Insomma Insomma sto lavorando appunto Un disco in uscita Che è lo stesso che è uscito in Giappone Esclusivamente in Giappone Quindi stiamo lavorando Su una release worldwide Quindi che copra tutto il resto del mondo Ci saranno un po' di sorprese Anche in campo della moda Lo dico qua come Non possiamo anticipare nulla Assolutamente no Top secret E invece parliamo delle collaborazioni C'è qualcosa che bolla in pentola di nuovo? Si, bolla in pentola Un sacco di roba Sintetizzando Voglio dare una mano anche Mi è arrivato il momento Nella mia vita di dare una mano anche Ad altri artisti Quindi stai facendo da produttore? Sto facendo anche da produttore Sto producendo nuova gente Nuove facce Nuovi generi soprattutto Quindi aspettiamoci Interessanti nuove Generi cosa? Io sono un fan di Da sempre Del crossover Quindi di mescolare Diverse influenze Quindi aspettiamoci Generi molto diversi Mixati insieme Benissimo Ti ringraziamo per essere stato Grazie a voi Ciao e benvenuto Su Mondo Spettacolo Ciao Allora Prima di tutto parliamo Dei tuoi progetti E poi parliamo di questa convention Che è veramente stato un successo Si, va bene Partiamo Comincia Allora io un progetto Nuovo di Zecca Che è in cantiere Lo stiamo ultimando Ho Il mio carissimo produttore Amico E fratello Ormai si può dire Che è nell'argento Con cui stiamo facendo Un discorso di dub Crossover Quindi Fondere Diversi generi Nel mondo della dub È un progetto molto ambizioso Infatti ho cambiato anche Il mio nome Da Gold Roger Sono passato a Rodgia Quindi un po' più Raggeggiante Se vogliamo Un po' più Giamaica pieno Quindi ecco Con lui sto Sto lavorando al disco nuovo Che non so ancora Quando uscirà Perché è in cantiere Chiaramente Stiamo lavorando A tambur battente Per avere fuori del materiale E si vedrà Insomma Dai dai Siamo work in progress Sì Sì E invece questa convention Che sta veramente Esplodendo Un successo bellissimo Tu sei stato l'artefice Di tutta la DC Arena Di tutta la programmazione Sì Sono stato Diciamo che Sono stato vicino al gruppo Che già c'era Chiaramente Sempre entrando in punta di piedi Quindi collaborando con Persone molto importanti Nell'ambiente del tatuaggio Soprattutto pionieri Della convention Guarda tu convention Di Torino Perché se non sbaglio Questa è la settima edizione La terza Al palavera Che è stata fatta E' stato Un progetto importante Quello che è Nel 2016 Perché? Perché c'è stata L'introduzione di Red Bull All'interno Di tutto il network E soprattutto Del marchio DC Che è il marchio Il più importante A livello di skate A livello mondiale Perché c'è il progetto Di portare un contest Poi nei prossimi anni A livello nazionale Ci stiamo lavorando Perché vogliamo Fondere questa cosa Di street E tatuaggi Ormai viaggiano In linea parallela Sono ambienti Che si prendono A 360 gradi Infatti Quest'anno Nella DC Arena È stato impostato Un market Di 15 espositori Questi espositori Sono uno diverso da loro Sono dei brand E dei negozi Multibrand Torinesi Perché la filosofia Che ho voluto attuare Dare importanza al territorio Esatto Dare importanza al territorio Anche nella scelta Soprattutto Della musica Non ci sono artisti Che vengono da fuori Se non Socks Love Che è un mio carissimo amico DJ Resident di Milano Importante Che è venuto appunto A fare da resident Su tutta la regia Del sabato Abbiamo avuto dati importanti Come quella di Nero Argento Unica data italiana All'interno del network Abbiamo un DJ Importantissimo A livello di rap Hip Hop In Italia Che è DJ Rula Che ha portato anche Il suo brand Di atipici È un negozio importante Sul territorio torinese Diciamo che ci siamo mossi A 360 gradi E anche Red Bull Ha voluto scommettere Diciamo nel mood Portando Sportando Insomma Il City Crusher Che è un progetto Che da sempre Lo fanno sulle piste Da sci Da snowboard Quindi questa jeep Molto grossa Infatti la domenica È stata pensata Perché la domenica Volevo dare una cosa Molto underground Quindi chiamare i gruppi Più importanti Della scena Che volessero sposare La causa Perché sono stati Interpellati diversi gruppi Qualcuno ha detto di sì Qualcuno di no Ma chiaramente lì Stava nella crew E nel gruppo E abbiamo fatto una cosa Molto underground Quindi suonare Davanti a questo jeepone Di Red Bull È stato bellissimo E poi vabbè La collaborazione con jeep Che già il gruppo aveva Quindi si sono suonate Delle cose importanti E secondo me Abbiamo fatto gol Tutti insieme Poi chiaramente Bella esperienza Per l'anno prossimo Assolutamente Stiamo già lavorando Per l'anno prossimo Su diversi canali Chiaramente il 2016 È stato un giro di boa Quindi rafforzare Tutto quanto Io ho portato il mio progetto Elettronico Che è Zaun È un progetto in cui Nero Argento e Giulie Sono i due produttori Giulie è un ragazzo di Aosta Che fa musica di M È un ragazzo di 18 anni Molto molto valido E che dire Il resto parla da sé C'è stata un'ottima E' un'ottima fluenza Adesso è ancora presto Però questa domenica Questa domenica qua Sta andando a mille I dati parlano a vista d'acchio Bene Noi ti ringraziamo Per essere stato con noi Grazie a voi Viva il lupo Ciao Rula Benvenuto Grazie Allora parliamo Hai appena finito Il tuo DJ set Ha avuto molto successo Raccontami l'esperienza Ah bello Anche perché Non mi era ancora capitato Di trovarmi Nella situazione Della Tattoo Convention Molto carino Molto ben organizzato Io sono uno dei pochi Che non ha tatuaggi qui Quindi sono un po' Un pesce fuor d'acqua È una scelta Sì sì Beh anche il tuo genere Non è proprio da tatuaggio Ma no ci sarebbe Perché io comunque Per chi non lo sa Faccio musica rap E comunque seguo il mondo hip hop Da più di 25 anni Quindi insomma diciamo Che sono abbastanza Un veterano Chiamiamo così E comunque devo dire Che anche i tatuaggi Sono una cultura parallela Che va avanti Nel mio mondo Nello street Che comunque È molto vicino Sono molto vicini fra di loro E DJ set è stato simpatico C'era anche perché C'era un po' voglia Sentivo un po' di rap Perché hanno spinto Con la cassa in quattro Per un bel po' Quindi abbiamo cambiato Un po' gene Sì effettivamente È stato un bel cambio Ho visto tanta gente Che ballava Quindi è stato divertente Tu sei comunque Proprietario di Atipici Che è un marchio importantissimo E lo hai portato qui E sta andando anche molto bene Sì tra l'altro Un momento particolare Cogliamo anche l'occasione Per dire che ci siamo spostati Il negozio che da dieci anni e mezzo In realtà sono treci anni Con il negozio Ma prima eravamo dall'altra parte Ma dopo dieci anni e mezzo Di onorata carriera In via Pietro Micca 3 Ci siamo spostati In via Pietro Micca 2 Noi abbiamo fatto tanta strada Però comunque È un passo importante Anche perché il negozio È più accogliente È più grande È ancora più assortimento Quindi Raccontami un po' I nuovi progetti Invece nuove sensazioni Ma diciamo che Limitatamente al tempo disponibile Che è sempre meno Io comunque Continuo a fare musica Attivamente Nel senso che Come detto Faccio il rap Con il mio gruppo Atipici Che si legge sempre atipici Però è scritto In maniera diversa Rispetto al negozio Parallelamente Porto avanti anche Questo discorso qua Abbiamo una serata Suono in parecchi locali torinesi Però abbiamo una serata Su tutte Che è la più potente Per i potenti In questo momento Che si chiama Ghetto Chic Tutta il B-Pop Che è funzionato molto bene Fra poco ripartiamo Da fine mese Ci siamo di nuovo Benissimo Allora ti facciamo Tanti in bocca al lupo Per la tua carriera Tanti in bocca al lupo Per i tuoi progetti E ci vediamo l'anno prossimo Qui in convention Bella Diglielo È un ringraziamento speciale Anche a New Events Torino Con Kauska Photography Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille